Musica Sono tanti giovani che collaborano alla riuscita del presepe vivente di Larina, noi siamo in compagnia di? Santoro Carlo In questo caso interpreti? Faccio il soldato Allora, come hai trovato questa iniziativa? Cosa ti ha spinto anche a partecipare? Per lo più mi ha spinto anche per il paese perché ci serve sempre che noi giovani ci mettiamo in mezzo a queste cose così non si perdono tradizioni, cerchiamo anche di chiamare amici per farlo, così mandiamo avanti anche le tradizioni noi Vediamo che poi questo progetto è premiato, sono in tanti proprio che affollano questa zona di Larino molto caratteristica La soddisfazione perché noi partecipiamo proprio per questo, perché la gente così viene e vede che a Larino ci sta anche un bel presepe vivente anche qui E incontriamo Antonio Pasquale Potena, si conferma un impegno da parte di tanti volontari per la riuscita del presepe? Ma non si discute, più che una conferma è un sentire che si aspetta tutto l'anno Ci saremo tutti l'anno prossimo, ce l'auguriamo Perché vogliamo che continui, perché questo presepe rappresenta infatti una vita che si rinnova di anno in anno Al di là del fatto che noi che abbiamo fede, va bene, crediamo nella resurrezione Ma per arrivare alla resurrezione dobbiamo vivere tutti gli anni, finché poi il Padre Tano ce lo consente E per noi quindi è una necessità di vita essere qui questa sera, al di là delle locazioni, dei posti di Viscore Ed è qualcosa estremamente sentito, ma fatto estremamente importante E' che è quel popolo di cui parla Papa Francesco che partecipa intensamente a questa stupenda manifestazione Giunta quest'anno la decima edizione Sì, la decima edizione ne ho fatte tante, abbiamo cambiato tanti posti Però sono passati dieci anni Ma il desiderio di starci sempre continua Ma non potremmo sapere fino a quando Ci lavoriamo il più possibile Abbiamo i più giovani, c'è la signora che è abbastanza giovane La cara che già da tre anni sta con noi, c'è il dottore Manca qualcuno perché ha avuto gli impegni, ma ci sarà il 29 E speriamo di continuare sempre così Proprio per questa necessità di continuare a vivere Perché la vita va rinnovata costantemente E la nascita del bambino è un rinnovo E la nascita del bambino è un rinnovo E una delle scene sicuramente più caratteristiche Quella che ricrea un po' un museo Potremmo dire così Che fa compiere un altro salto nel passato Anzi Nicola Gabriele ci ricorda una minima parte di un museo Sì, quest'anno ci sarà l'altro amico mio che fa fila coltelli Siamo un po' ingranditi per le cose Ogni anno ci piace fare questo tipo di scappellino Questo si chiama scappellino Ci sono tanti attrezzi, vogliamo fare qualche esempio Anche per i nostri giovani telespettatori Che magari non conoscono questi oggetti, attrezzi Questo si chiama lo schiandino Lo schiandino Che si scolpiva vicino alla pietra E si faceva il lavoro Questa è la bugiarda Che si bugiardano le pietre Poi ci sono della ceramica Quest'anno ceramica vecchia di una volta Quanto risalgono queste attrezzature? Questi attrezzature che stanno qua Sono più di questo qua C'è più di cento anni Più di cento anni? E questi sono proprio i scalpellini C'erano 150 anni Questi scalpellini Noi c'erano il cigno Uno che si chiama Mastro Merinda Che faceva questi ciotoli Che stanno per la strada E usavano questi attrezzi qua C'è molto altro qui proprio da osservare Da scoprire Quindi si potrebbe Restare e rimanere qui anche ore Tante cose sono Ci sono queste Era per il grano Questo è per il grano Come a zitto Ci sono molte cose Ci stanno UBSnet Questo è quello che si chiama là La nostra telecamera Riprenderemo anche altri dettagli Quanto fu Tutte altre cose pure Quelle ci sono le cose che Pettevano le tifiche a seccare Michele In questo caso Tu ti occupi di quale mestiere? A fila coltelli È il primo anno che sono intervenuti Con Nicola Per la prima esperienza C'è poca esperienza E' una cosa bella Una cosa che Vale la pena Anche per trasmettere Queste conoscenze Ai bambini Ai bambini Ai giovani Sì Bene che si imparano Si trasferiscono E sono tanti i visitatori Qui al Preserve di Larino Una comitiva che arriva da? Calabria Palmi Provincia di Reggio Calabria Dalla Calabria a Larino Sì sì Perfetto Ma tenga presente Che il Molise È una terra bella da visitare Poi con l'occasione Quest'anno Abbiamo saputo Della presenza Di questo Preserve Che fino al momento È bellissimo Va visto E va valorizzato Tutto quanto E via Hai trovato anche Il centro storico Qui di Larino Molto particolare? È un centro storico Molto curato Molto particolare È bello Onestamente non me lo sarei mai Aspettato così Io arrivo dalla Calabria In compagnia di altri visitatori Che invece arrivano da? Civitella Casanova In Abruzzo In Abruzzo Sai che anche in Abruzzo Si può vedere Telemolise sul canale 96 Ti potrei vedere in questa intervista Come hai trovato il presepe Qui a Larino? Molto bello Ci sono molti personaggi E molte cose belle da scoprire E molte cose belle da scoprire Invece tu sei? Giovanni Vengo da Guglianesi Quindi sei più che arrivi dal territorio Come hai trovato il presepe? Bello Molto interessante E ci sono molte cose da vedere E invece tu sei? Sara Vengo dall'Abruzzo Civitella Casanova Di sei? Sorella? Sì Come hai trovato il presepe? È interessante E che questo presepe racconta proprio la storia di Gesù E di quelli che ci vivevano Bene Ringraziamo anche questa comitiva E ricordiamo che in Abruzzo Delemolise si può seguire sul canale 96 E quindi anche un invito a visitare altre tradizioni Sì abbastanza Sono diciamo Alla fine rappresentano tutta la nostra storia Insomma la nostra cultura Quindi va tutta quanta visitata Va valorizzata E va anche conosciuta da altre regioni Insomma tutto quello che c'è Per tutta l'Italia intera